Ciao a tutti, in questo video faremo un ciondolo ispirato da Harry Potter, con una civetta delle nevi che tiene tra le zampe una lettera di accettazione ad Hogwarts pendente. Spero possa esservi utile e buona visione! Facciamo un veloce schizzo della civetta. Ricalchiamo la sagoma sulla pasta. E tagliamo l'eccesso. Tagliamo e pieghiamo del filo di acciaio per i ganci del ciondolo. Tagliersa Grazie a tutti. Tagliersa Tagliersa Scolpiamo il corpo Per gli occhi usiamo giallo e nero Scolpiamo il corpo Scolpiamo il corpo Cominciamo a creare le piume della coda Scolpiamo il corpo E ad aggiungere i particolari scuri Dopo aver finito la coda, inseriamo una piccola vite ad occhiello Ed aggiungiamo il fimo liquid La vite dovrà essere abbastanza distante dalla coda E ora le ali La vite dovrà essere abbastanza distante dalla coda Tagliamo piccoli triangoli di pasta in eccesso La vite dovrà essere abbastanza distante dalla coda La vite dovrà essere abbastanza distante dalla coda La vite dovrà essere abbastanza distante dalla coda Aggiungiamo pasta bianca attorno agli occhi Ed infine creiamo le zampe Passiamo alla lettera La vite dovrà essere abbastanza distante dalla coda Per fare il sigillo Uniamo la polvere di un gessetto colorato e della grafite al fimo liquid Fuoriamo la lettera e mettiamo tutto in forno Pieghiamo i ganci E con un connettore uniamo zampe e lettera Grazie infinite per aver visto questo video Se ti va puoi iscriverti e lasciare un commento o un mi piace Ci vediamo al prossimo tutorial Ciao ciao